Buonasera e bentornati a Primo Cittadino. Iniziamo questa stagione perché siamo nella prima puntata del 2022 insieme al Sindaco di Fano Massimo Seri. Buonasera Sindaco, bentornati nei nostri studi. Buonasera e buonasera a tutti i telespettatori. Intanto ricordo ai telespettatori che possono contattare lo 0721 86 14 33 per intervenire in diretta, invece il numero di cellulare è dedicato ai vostri messaggi Whatsapp. Intanto un piccolo aggiornamento, o meglio un messaggio che ci è arrivato in merito a un servizio che è andato in onda poco fa nel telegiornale. Buonasera, ho appena visto il servizio fatto sui tamponi richiesti obbligatoriamente per frequentare la scuola in caso di un contatto con positivo. vi ringrazio per aver sollevato il problema e vi invito a tenere la situazione monitorata perché da parte delle famiglie c'è un grande malcontento in quanto si trovano costrette a sostenere costi settimanali notevoli. In questa settimana ci proseguono nel messaggio dovrò spendere 60 euro per quattro tamponi avendo due fili nella situazione indicata appunto la scuola Montessori e grazie mille Francesca. Quindi grazie a voi per tenerci aggiornati. Dunque sindaco abbiamo visto ieri il botte risposta che c'è stato con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci per un lavoro condiviso sull'arretramento della ferrovia. Infatti nella legge di bilancio sono stati inseriti 5 miliardi sulla tratta Bologna-Bari e questo importante annuncio riguarda anche il nostro territorio. Che cosa ha risposto Ricci? Non è un botte risposta, non è una risposta, è semplicemente una considerazione. Sul tema dell'arretramento della ferrovia se ne parla da sempre. Ovviamente il tratto ferroviario che costeggia la costa è sempre stato un problema che ha condizionato molte attività, certi tipi di sviluppo, poi c'è il tema anche dell'erosione che sempre più si avvicina. Ma al di là di questo sono sempre stati discorsi... Questa volta c'è una novità. Sono previsti 5 miliardi destinati alla tratta Bologna-Bari per interventi di questo tipo di arretramento. Ovviamente quello che io sostengo è che questo non deve interessare una singola città ma deve interessare un territorio, nello specifico tutto il tratto Pesaro-Falconara. Ovviamente vanno fatte tutte le verifiche, le verifiche di possibilità perché ovviamente problematiche ce ne potranno essere. Però ecco, quello che va escluso e in un primo momento poteva esserci un pericolo anche di questo tipo, che magari una città faceva un arretramento rispetto ad un'altra e questo avrebbe creato ulteriori problemi. Quindi Fanno è interessata come lo è Pesaro, come lo è Senigallia, immagino anche Mondolfo. C'è già stato un incontro da tempo, io ho anche convocato tutti i capi gruppo per avere così anche un sostegno in questo senso. L'assessore regionale ha convocato tutti i comuni interessati proprio per capire quella che era la posizione, quella che era la volontà. C'è una volontà condivisa ovviamente, però ecco, bisogna ragionarci, bisogna fare alcune verifiche anche di percorsi, però rispetto al passato la vera novità è che questa volta ci sono 5 miliardi già destinati del PNNR per questa infrastruttura. Ma porterebbe dei vantaggi per il lungomare? Beh, voi immaginate non avere più la tratta ferroviaria lì, cosa significa in alcune parti della città. Perché verrebbe spostata più a monte, no? Più a monte, sì, adesso vanno, ripeto, vanno verificate le fattibilità, le possibilità. Dunque, le strade, Sindaco, ci segnalano quella dell'ospedale, via Vittorio Veneto, via Roma, via San Lazzaro, via delle Brecce, anche rotatori impraticabili con bici e motorini e poi anche la strada che da Centinarola conduce al Prelato, domani avremo nel nostro telegiornale un servizio che si riferisce a Via Torno. Quando partiranno i nuovi asfalti? Beh, intanto abbiamo già in corso una gara d'appalto per 3 milioni e 7, quindi diversi chilometri di nuove asfaltature, che verranno, la gara prevede l'inizio dei lavori per inizio aprile. Ovviamente dobbiamo aspettare la primavera per poter iniziare questi lavori. Nel frattempo stiamo già predisponendo altri 2 milioni circa per altre asfaltature e prevediamo che proprio per una tipologia di bando che abbiamo fatto per un accordo quadro, di poterle appaltare e realizzare in contemporanea con i 4 milioni e 3 milioni e 7 che abbiamo già previsto. Quindi penso che quest'estate vedrete tante persone a lavorare, ad asfaltare tante strade della nostra città, dei nostri quartieri. Sia del centro città che della periferia? Noi verranno interessati quasi tutti i quartieri. Ovviamente, ripeto, le strade sono 450 chilometri di strade da asfaltare. Noi ne abbiamo asfaltate tutt'oggi in questi sette anni oltre 100 chilometri, penso 110-115. Ne aggiungiamo altri 6 milioni circa e quindi daremo delle risposte importanti. ovviamente non complete, non essendo in grado di asfaltare ovviamente, come tutti possono comprendere, tutte le strade, quindi qualcuno rimarrà inevitabilmente scontento. Poi quando sarà pronto e definito con tutte le vie... Sì, una parte, le 3 milioni e 7 sono già state elencate, le altre lo faremo nel mese di febbraio. Cosa ne pensa il Sindaco di studiare una soluzione che preveda l'utilizzo dell'area ex-Agip per migliorare la viabilità della nazionale spesso congestionata? E ci chiedono anche di poter rifare un parcheggio per i turisti che non sanno dove parcheggiare. Allora, intanto non c'è ancora stata riconsegnata l'area perché è in una fase di bonifica, però ormai, insomma, dagli ultimi accordi, fra 5-6 mesi, salvo imprevisti, dovrebbe essere riconsegnata. Noi abbiamo fatto una prima ipotesi che non ha trovato un ampio consenso, adesso riattribuiremo un incarico per riprogettarlo, abbiamo già il finanziamento per l'intervento. Dico subito che lì non ci andrà un parcheggio, la scelta è stata già fatta, condivisa, ovviamente non tutti sono d'accordo, ma è normale, non c'è una scelta che ha sempre un consenso al 100%. Nel ragionamento noi abbiamo fatto degli studi, delle analisi del traffico, quella è una via e il signore che ha telefonato ha ragione, con una densità importante di traffico si condensano diverse arterie che si congiungono proprio in quel punto. Le soluzioni non sono semplici, ovviamente si tiene conto anche di alcuni accorgimenti, però ecco la cosa che va detta, che non diventerà un parcheggio quello spazio là. Noi dobbiamo rendere la nostra città sempre più bella, attraente, quindi questa è la nostra direzione. Ovviamente non guardiamo soltanto a quella parte dell'area, semplicemente dell'Agi, ma a tutto il contesto che è intorno, perché il ragionamento della progettualità ti racconta anche di questo, della parte verde che c'è intorno, c'è una scuola, siamo proprio a ridosso del centro storico, quindi l'attenzione è forte, ma per valorizzare quell'area. Piano regolatore, era una priorità nel primo mandato, ora nel secondo si farà qualcosa? Siamo, adesso direi la parola, pronti, ma ci siamo. A brevissimo inizieremo, adesso pandemia permettendo, anche i confronti nei quartieri, con tutti gli stakeholder, cioè tutti i portatori di interesse, per cui ci siamo. Inizieremo a discuterne veramente. Da ciclista vorrei farle notare che è pericoloso delimitare le piste ciclabili con moretti alti, vedi via Nigosanti, è molto meglio la pista in rosso, delimitata da riga gialla e bianca, come nel lungomare di Sassonia, tra l'altro sicuramente meno costoso. E segnalazioni come queste ce ne sono arrivate tante nelle scorse settimane. Come mai la scelta del muretto per evitare le piste? Queste scelte non le fa il sindaco, le fanno insieme ai tecnici, gli assessori competenti. Se non mettiamo il muretto, perché mettiamo, insomma, su questi ci sono dei protocolli, delle tendenze, si tende a guardare la sicurezza del ciclista, del pedone. Quella ovviamente ha una sua intensità, per cui si è ritenuto che quella fosse la scelta più giusta e più opportuna. Poi, ripeto, non è sempre facile trovare sempre la soluzione perfetta. Adesso ancora attendiamo che siano finiti i lavori anche di arredo, perché lì verranno piantate anche del verde, dei fiori, delle piante. Quindi avrà anche un decoro e sarà anche bella come aria. Abbiamo la prima telefonata per lei, sindaco. Buonasera, chi c'è in linea? Ci sente? Buonasera. Buonasera, signor sindaco. Buonasera. Sono un cittadino del comune di San Costanzo e ho chiamato perché vorrei sapere sul futuro della discarica di Monte Schiantello, perché molti giornali hanno parlato, molte ipotesi sono state fatte, ma qual è stata la scelta per quella discarica? Perché dal cittadino del comune mi interessa, perché comunque ho saputo che si allargerà verso il nostro comune e non molto lontano c'è un polo scolastico dove vanno a scuola dei bambini. È vero, non è vero? Qual è la scelta finale? Grazie. Grazie a lei, sindaco. Sì, allora, c'è un piano dei rifiuti di ambito, quindi che riguarda tutta la provincia, che è stato licenziato nell'ultima conferenza. Fra l'altro il comune di Fani insieme ad altri comuni hanno votato contro quel piano per ragioni diverse. C'era un'analisi della possibilità di ampliamento, che veniva previsto in questo piano, però non è previsto un allargamento in questo mandato di piano, chiamiamolo così, perché un piano di ambito ha una durata di cinque anni e dalle osservazioni, da quello che emerge adesso non ho le certezze, però non dovrebbe riguardare, in questa fase, l'ampliamento. Poi è chiaro che i rifiuti da qualche parte devono essere portati, c'è una discarica, noi cerchiamo di farla vivere il più a lungo possibile, perché questa è la cosa importante. Fortunatamente la gestione dei rifiuti della nostra città è molto eccellente, perché noi abbiamo il 75% di raccolta differenziata, questo significa che in discarica vanno meno rifiuti e quelli che vanno sono quelli che creano anche meno disturbo, in quanto rispetto all'organico, che poi emanano anche i cattivi odori, questa tipologia conseguente ad una buona raccolta differenziata migliora la qualità. Per cui abbiamo in questi anni allungato la vita della discarica. A proposito di rifiuti, adesso vi facciamo vedere le foto con l'aiuto della regia, che ci arrivano dal parcheggio dello Sport Park, che ci scrivono questo è quello che succede durante il fine settimana. I clienti, però non sappiamo se effettivamente questo sia il risultato dei clienti dello Sport Park, sono dei gran maleducati e sporca, non bisognerebbe far pagare anche ai gestori della pulizia del parcheggio, forse queste rientrano nell'altra percentuale di persone che non conferiscono in modo corretto i rifiuti. Una segnalazione fatta più che altro, un appello alla responsabilità. Così come il video che ci arriva dal centro storico. Vorrei sapere, ci dicono, che cosa ne pensa il sindaco della situazione che perdura da tempo, di disordine pubblico e violazioni delle norme anti-covid che si verificano a Fanno, l'incrocio tra Via Nolfi e Via dei Borgoggelli. Succede il venerdì e sabato notte da parte dei clienti di un bar con assembramenti di ragazzi che stazionano davanti agli ingressi delle abitazioni, urlano, sono ubriachi e tutti senza mascherina. Si verificano risse, ci ha scritto il telespettatore, danneggiano tutto quello che trovano, sono già state fatte le segnalazioni alla Polizia Municipale, alla Prefettura, ma anche le chiamate alle forze dell'ordine. Non mi sembra una situazione normale, ma sembra che tutto però sia normale perché non ci sono interventi. Allora, qui sono due gli aspetti per quello che riguarda la raccolta e il cassonetto dell'isola ecologica. Voglio sperare che sia la conseguenza che magari ci sia stato un passaggio in meno, siamo in una fase di pieno covid e toni positivi magari possono aver fatto saltare un giro di raccolta. Allora, qui ci sono due gli elementi. Uno, da una parte, un maggior senso di responsabilità, di educazione civica e di rispetto verso la cosa pubblica, perché alla fine appartiene ad ognuno di noi e se ognuno di noi è più attento staremo tutti meglio. Dall'altra vedo che magari erano strapieni, per cui se è una situazione che si ripete con costanza, forse bisogna aggiungere un cassonetto in più. Adesso lo faccio verificare per capire se era una situazione straordinaria che si è verificata e che può accadere, però richiamo sempre l'attenzione e l'educazione delle persone perché quello fa sempre la differenza. Oppure è una cosa costante, allora bisogna intervenire aumentando lo spazio per poter conferire i rifiuti. Ha per l'altra, invece, la situazione di Via Nolfi è conosciuta, fra l'altro in più occasioni abbiamo incontrato anche residenti, in passato c'è una situazione ancora peggiore, siamo intervenuti anche con l'installazione di una telecamera, avevamo organizzato in più occasioni anche maggiori controlli. Adesso, nell'immagine non erano tantissime, ma sono informato anch'io per quello che ci segnala il Signore e se è mia cura, magari fare adesso un passaggio anche con le forze dell'ordine per concordare alcuni passaggi ulteriori, soprattutto il rispetto anche delle norme Covid, perché quello è fondamentale per la tutela di tutti, quello è ancora più grave, c'è anche un non rispetto delle regole. Quindi, per quello che guarda la Polizia Municipale, in certi orari il nostro servizio non c'è, quindi lo ringrazio e mi faccio carico, pur nelle difficoltà che ci sono, perché questo dobbiamo dircele. Ci spostiamo di pochi metri, Piazza Marcolini. Piazza Marcolini è un'altra bella piazza, una piccola piazza della nostra città, circondata da dei bei palazzi, è un impegno che ci eravamo dati, quella di riqualificarla, io l'ho chiamata la Montmartre Fanese, lì c'è Palazzo Marcolini, che è di proprietà dell'amministrazione comunale, oggi destinazione scolastica, in uso della provincia, ma dovrà tornare quando finiremo di recuperare completamente Palazzo Petrucci in disponibilità del comune. Lì abbiamo fatto un progetto, abbiamo già il finanziamento, quindi per il prossimo anno io penso che avremo una Piazza Marcolini nuova. Il progetto è stato rivisto, alla luce anche degli incontri, delle osservazioni da più parte sopra aggiunti, quindi quella parte di giardino è stata ridotta, aumentata la parte della piazza, verrà fuori una bella, come dicevo, una bella piazza con una giusta illuminazione, che darà veramente valore e prestigio a quella zona. Oggi è una situazione indecorosa, in più occasione tanti cittadini mi avevano sollecitato, ma ricordo anche prima che arrivassi io, veniva richiamata spesso questa situazione, e penso che daremo una bella risposta di qualità, e apprezzeranno, i cittadini apprezzeranno molto questa riqualificazione. Poi c'è anche un palazzo che è una situazione, non voglio dire di degrado, ma che deve essere riqualificato, la proprietà mi ha garantito che interverranno con una riqualificazione, perché altrimenti avrei messo un'ordinanza, come è già avvenuto per altre strutture, e per altre ancora seguiranno. A proposito di parcheggi, visto che ci sono delle auto in sosta, ci chiedono informazioni e novità, sia per quello del foro Boario, ma anche quello per il parcheggio vicino al commissariato. Pronto soccorso. Allora, quello vicino al commissariato, via Risorgimento, è in gara d'appalto, quindi è già uscito il bando, non ricordo la scadenza per le ditte che dovranno partecipare, e quindi i lavori possono iniziare una volta giudicate, nell'arco di un mese verranno aggiudicate, dopodiché la ditta potrà iniziare i lavori il prima possibile, quindi a breve vedrete il cantiere, insomma un paio di mesi il cantiere partirà. Mentre per quello che riguarda il pronto soccorso, il foro Boario, lo sport par, quello che abbiamo visto prima, e anche quelli abbiamo già le risorse destinate, adesso entro il mese di gennaio daremo l'incarico per la progettazione dell'asfaltatura, dopodiché affideremo i lavori. Quindi questo entro l'anno, penso saranno interventi che verranno eseguiti. Buonasera Sindaco, volevo sapere se nella ciclo via Fano-Ponte Sasso è prevista una pista ciclabile che colleghi anche il quartiere di Tombaccia? Allora, sono due. Una riguarda, e su quello stiamo già lavorando, alla progettazione per tutta la ciclo via dell'Adriatico, anche un ponte ciclabile sul Metauro. Mentre c'era un ragionamento aperto con la provincia, perché là parliamo di una strada provinciale per quella che collega con Tombaccia, che è importante, c'era un progetto di fattibilità ed è un tema quello che va ripreso, perché diventa un'arteria importante di collegamento con la ciclo via dell'Adriatico, ma anche una messa in sicurezza per coloro che vogliono venire al mare, per quelli che abitano in quella zona. Volevo sapere quando inizieranno i lavori delle scogliere a Metaurilia. Allora, ho parlato col vice sindaco che segue direttamente questa cosa, che entro fine mese sarebbero partiti, mi hanno dato la data del 28, e adesso non sono a essere più preciso, sarebbero partiti per Metaurilia e Sassonia, quindi si tratterà di verificare, di aspettare questa settimana e avremo la controprova per verificare se sono di parola, se manterranno gli impegni che hanno assunto con noi. Segnalano l'alta velocità che le auto tengono su via della colonna, anche se sono presenti 30 km orari, quindi chiedono se il Comune può fare qualcosa, se può intervenire. Sì, lì quella è una zona dove si pigia il piede sull'acceleratore, fra l'altro poi da quando l'abbiamo asfaltata questo fenomeno si è reso ancora più evidente. Bisogna capire quali strumenti utilizzare. Noi siamo intennuti con la segnaletica, ma lo sappiamo tutti che la segnaletica non è sempre rispettata e vanno creati o dei ristringimenti per far rallentare, i dossi non sempre sono indicati, creano disagio, però effettivamente va trovata una soluzione per provare a far rallentare in quella strada. Ci sono anche tanti portoni di ingresso, di abitazioni e quindi la velocità rischia di essere un pericolo vero e concreto. Ci segnalano anche via D'Annunzio, via D'Alisha, sempre per i lavori di asfaltatura, al ballato via Ugo Bassi, perché chi cammina... Via D'Annunzio, se non sbaglio, sono andato anche personalmente, lo avremo in quello dei 2 milioni. Ecco, quindi via Ugo Bassi. E se la memoria potrei anche confondermi. Le chiedono anche perché non si fa un'ordinanza per recuperare una casa che si trovi in via San Leonardo, che è pericolante, insomma, ci sono dei problemi. Non so se lei ne ha coscienza. Via San Leonardo, perché ovviamente ci sono ragioni di pericolosità, io l'ordinanza la emetto. Via? Allora, riprendo il messaggio. Via San Leonardo. Via San Leonardo. Dunque, andiamo avanti. Volevo chiedere al sindaco come intende procedere a riguardo della precaria condizione della gradinata dello stadio Mancini e se sta vigilando sull'operato di questa nuova società. Allora, la gradinata è un'altra delle opere che dovremo fare. e penso sarà la prima opera, nuovo intervento che si farà nello stadio. Ne abbiamo già parlato con gli assessori competenti e quindi tra le varie progettazioni che faremo ci sarà anche questa. Fra l'altro ci sono anche risorse del PNNR o bando periferie sport che dovrà uscire a breve e quindi possiamo candidarci anche per queste infrastrutture. Sindaco, ancora strade. Via Enaudi, via Tognolo e poi dove ce n'avevo altre. Poi un'altra strada che è impercorribile che da Fosso Soiore conduce a Roncosambaccio dice che tre anni fa lo aveva promesso e ancora niente. Via D'Annunzio ancora. Insomma, le strade stanno a cuore dei cittadini. Io mi rendo punto perché ci passo anche io nelle strade sia in macchina che in moto e quindi mi rendo conto cerchiamo, adesso facciamo un intervento veramente importante insomma, il 2022 vedrà circa 6 milioni di interventi quindi faremo diversi chilometri. Ok, progetti altrettanto con gli ammetauro le fanno anche complimenti quindi le augurano un buon lavoro perché rendete fanno sempre più bella. E ancora, buonasera, si potrebbe evitare di far andare i cani a passeggio in città perché fanno i loro bisogni sui muri anche davanti ai negozi e poi, giustamente con i piedi ci si passa sopra. Anche io ho un cane e cerco di fare attenzione allora la prima educazione la devono avere i proprietari dei cani sono una bella compagnia, sono piacevoli sanno essere educati e alcune volte siamo più maleducati noi rispetto a loro che li accompagniamo. Su questo ho già chiesto in passato di aumentare i controlli perché poi anche in centro insomma veramente è indecoroso vedere e magari mettere a calpestare qualche regalo di qualche cane per cui la raccomandazione è l'invito di cuore e alle persone innanzitutto. Per il resto raccogliendo anche l'invito della persona che ha inviato il messaggio l'impegno di aumentare i controlli. Abbiamo un'altra telefonata per lei sentiamo chi c'è in linea, buonasera 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 Prego Signor Sindaco ci conosciamo le ho già chiesto riguardo al palasport Sì? Ah sì 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 Sono sempre io che le chiedo come mai avete preso questa decisione di ubicare il nuovo palasport in quella zona così decentrata proprio di fronte dietro al possibile progetto che farà l'Enereco e di fronte alla superstrada dove poi davanti all'entrata di questo palasport avete altre tre proprietà private con spascia cadorsi ma quando voi avete una bella aria bella vostra in via Campanella che per la seconda volta non utilizzate prima non l'avete utilizzata per la piscina e adesso non l'utilizzate ancora per il palasport Sì beh l'area individuata è un'area di nostra proprietà perché noi ovviamente gli interventi dobbiamo farli sulle nostre aree non possiamo andare a acquistare aree private la zona è quella di via Campanella è una zona strategica nel senso è vicinissima all'uscita dalla E78 della superstrada vicino all'uscita dell'autostrada una struttura come quella del palasport è una struttura che deve attrarre anche persone che arrivano da fuori Fano perché magari possa esserci un concerto una partita in partanto un campionato per cui va fatta non al centro storico ma in una zona facilmente raggiungibile comoda con spazi per poter parcheggiare l'osservazione della persona che ha chiamato perché abbiamo avuto modo anche di parlarci personalmente è che non è tanto la zona lui suggeriva di spostarsi più verso nord diciamo quelle sono valutazioni urbanistiche ancora il progetto non c'è però a breve daremo l'incarico perché le caratteristiche individuate sono state anche condivise e ormai la scelta della tipologia della grandezza insomma di questi aspetti è stata individuata adesso rifaremo un ulteriore passaggio con le rappresentanze però ecco adesso ci sarà un'accelerazione perché comunque è un progetto complesso non sono progetti che si fanno in un mese ovviamente come è immaginabile le risorse che si richiedono sono importanti un po' abbiamo immaginato individuato dove poterle reperire altre magari possono arrivare con i fondi PNNR sulla quale stiamo lavorando con grande intensità tutti i lunedì mattina io convoco la cabina di regia anche questa mattina abbiamo distribuito del lavoro abbiamo individuato canali sia per essere pronti per partecipare a quelli già usciti scadenza a metà febbraio e a metà marzo ma ci stiamo preparando anche per quelli che usciranno sulle sei missioni del PNNR quindi non sarò io a tagliare il nastro ma sicuramente lascerò un percorso avviato a chi poi verrà dopo di me dagli allagamenti di Ponte Sasso all'illuminazione fino alle scogliere all'ex pista dei go-kart ci stanno arrivando tanti altri messaggi ma ci fermiamo per qualche istante di pubblicità bene siamo di nuovo in diretta iniziamo subito con i messaggi dei nostri telespettatori buonasera il cantiere Wider perché non si invita la ditta ad affidarsi ad uno studio di architettura importante per la progettazione del cantiere è un edificio troppo importante beh direi la risposta è semplice già fatto messaggio chiaro e netto che ho personalmente rivolto alla ditta quello che rendere che si veda non è il progetto che verrà realizzato ovviamente è tutto in divenire concordo con quelli che hanno colto questa preoccupazione che è anche la nostra preoccupazione ovviamente lì c'è una destinazione che prevedeva la realizzazione di una struttura di questo genere quindi diciamo che un'occasione di lavoro possa diventare anche un'opportunità architettonica abbiamo tanti esempi in giro per il mondo di segni forti architettonici che sono diventati un punto di interesse quindi questa sarà la direzione verso la quale ci si sta rivolgendo a che punto sono i progetti per risolvere i problemi di allagamento a Ponte Sasso quando ci sarà la riunione che il sindaco ci aveva promesso sempre a Ponte Sasso per parlare di soluzioni sì anche stamattina mi sono confrontato con il dirigente hanno già fatto diversi sopralluoghi anche con chi dovrà fare le analisi che in realtà hanno già iniziato anche se non sono magari formalizzate a tutti gli effetti per cui stiamo procedendo appena mi daranno le risultanze faremo un nuovo incontro a riportare quelli che sono gli interventi che dovremmo provare a fare nel frattempo abbiamo anche siamo visti anche con Aset per poter ragionare su altri interventi a cominciare da quello su Rio Crinaccio già stanziato può darci informazioni invece sulle scogliere all'ex appista dei go-kart? allora ex pista di co-kart anche quella abbiamo ricevuto il finanziamento però qui devono essere appaltate il progetto c'era già devono essere appaltate segnalano anche l'uscita di Bellocchi l'asfalto che sarebbe necessario in direzione sud per via si sono tante sono tante onestamente le conosciamo tutte cerchiamo di dare il più possibile risposte cioè asfaltarle tutte non riusciremo a farle diamo una scala di priorità in base alla situazione di degrado della strada al traffico che c'è insomma una serie di elementi che ci fanno fare una chiamiamola così classifica di priorità e con le risorse che abbiamo cerchiamo di farne il più possibile sono andando avanti nei messaggi ma sono più o meno tutti collegati a strade vie marciapiedi buonasera quando pensa il comune di piantumare alberi nelle vie di Fano dove mancano oppure sono completamente assenti inoltre è prevista la potatura degli alberi nel verde del verde dietro le case popolari al ballato ecco di questo se ne occupa ASET giusto? sì che ha un suo programma quelle se non sbaglio vicino anche al campo da calcio o lì ci sono già stati dei passaggi poi ovviamente una volta fatta la potatura nel giro di poco tempo rifioriscono e ricrescono ripeto ASET nel giro c'è un programma che in quattro anni fa tutto il giro delle potature di tutti gli alberi di nostra competenza della città una parte vengono programmate una parte anche su segnalazioni dei cittadini c'è un periodo ben definito per le potature ovviamente non sono tutto l'anno adesso comunque girerò questa telefonata questo messaggio è possibile rivedere la viabilità in via Dante Lighieri abbiamo i nostri tir che tutti i giorni rischiano incidenti e anche il blocco del traffico beh la viabilità lì è difficile le strade sono dei sensi unici ci sono solo quelle lì adesso una vera riflessione dobbiamo farla adesso non ricordo mi sembra domani abbiamo proprio un incontro sulla viabilità di Sassonia perché dobbiamo ragionare alcune ipotesi una importante che dovremmo così inserire anche nella progettazione del waterfront che è una cosa seria vera che sta procedendo stiamo affidando formalmente gli incarichi a quelli che hanno già vinto quindi abbiamo già i nomi degli studi e un'ipotesi è la capacità di poter abbassare il sottopasso di via Nazario Sauro capire se ci sono le caratteristiche tecniche per poterlo fare perché quello potrebbe portarci una bella risposta e un po' di sollievo perché ci eliminerebbe una parte di passaggi di questi camion ha novità sui lavori per la nuova piscina? sarà procedente se passate in questi giorni vedete il tetto che è stato montato ovviamente non è ancora finito quindi entro l'anno ci nuoteremo dentro invece da Metauriglia ci scrivono se si sa qualcosa della pulizia del fiume Metauro adesso non sono aggiornato sul programma dunque vorrei sapere le pompe di piazzale Amendola all'allacciamento elettrico qui andiamo al Lido lo stesso c'era il problema sì sì l'ho spiegato anche l'altra volta tutti i lavori sono finiti manca questo allacciamento abbiamo fatto le ultime procedure adesso è concordato raggiunto l'accordo Enel Comune il Comune realizza la cabina Enel il cablaggio dopodiché ci sarà l'allaccio e inizieranno a funzionare perché spendere tanti euro per le ciclabili quando i ciclisti non le usano costruiscono il normale traffico non esistono le multe quindi un invito anche alle forze di polizia di elevare qualche sanzione in più e le chiedono anche di riqualificare i cordoli del giardino alla Mediateca Montanari perché sarebbe necessario visto che sono in pieno centro storico no lì farei di più io vorrei riqualificare completamente Piazza Miani che è un'altra parte strategica straordinariamente bella della nostra città le chiedono di puntare su parcheggi in multipiano ma anche di elevare sanzioni penso ai genitori dei bambini della scuola Corridoni perché parcheggiano sulla pista ciclabile all'entrata e all'uscita quindi poi è anche una cosa molto molto pericolosa Sì, sulle piste ciclabili non si può parcheggiare le piste ciclabili sono utili è aumentato l'utilizzo della bicicletta più infrastrutture ci sono e più vengono utilizzate più sono sicure e più ci si va volentieri posso garantire che c'è stato un incremento dell'utilizzo della bicicletta nella nostra città per i multipiani anch'io sono convinto che debba esserci una struttura di questo tipo per dare una maggior risposta al centro storico e riducendo sempre più le macchine all'interno del centro storico e su questo stiamo lavorando su alcune ipotesi proprio in questi giorni stiamo ragionando anche su alcune strutture importanti ma in questo momento non posso anticipare nulla perché stiamo facendo delle verifiche ma molto presto daremo delle comunicazioni importanti spero molto belle che la città aspetta da tanto tempo ultimi messaggi per lei sindaco perché siamo in chiusura prima segnalavano adesso non riesco a trovare il messaggio le tante auto che si mettono in coda in via Pisacane per andare in un noto ristorante e quindi se anche lì si può fare qualcosa lo so lo so ci sono trovato anch'io alcune volte alcuni che mi conoscono mi hanno girato anche delle delle foto è un problema adesso non saprei rispondere come risolverlo perché non è semplice d'altronde bisogna capire anche l'esigenza di chi lavora del servizio che viene offerto dall'altra non creare disagio e rendere quel tratto pericoloso perché quando c'è una fila di questo tipo ci sono ostacoli visivi c'è il pericolo che si inseriscono macchine insomma è una questione che va risolta in qualche modo e le chiedono quando inizieranno i lavori per la nuova rotatore di Rosciano anche questa è in gara d'appalto per cui quando scadranno i termini che mi sono lembrassiano entro il mese la commissione dovrà analizzarli affidare nominare un vincitore affidargli il lavoro e partiranno quindi io penso non voglio dire date perché rischio di essere smentito però veramente ormai ci siamo entro l'estate potremmo essere a buon punto un piccolo consiglio per il comune per il problema delle deiezioni liquide dei cani anche questa mattina ho notato le fioriere del centro tutte imbrattate segnalo che il comune di Fossombrone ha fatto un'ordinanza specifica che impone di portare bottiglietta d'acqua per pulire e poi stanno facendo anche una bella ordinanza che piace anche a me e devo dire che proprio questa mattina ne abbiamo guardato e non escluso che possa farla anch'io bene sindaco grazie per essere stato con noi ringrazio anche regia Cristiana Guerra e Riccardo Sora speriamo di rieverla nei nostri studi al più presto per il primo cittadino grazie anche a voi e buona serata e buonanotte a questo punto a tutti i fanesi e noi grazie sindaco di nuovo ci vediamo domani sera con occhio alla notizia alle 20 e 30 domani mattina e invece Massimo Fughetti leggerà insieme a voi i quotidiani arrivederci